In questo primo esercizio ci viene chiesto di completare una tabella con delle informazioni su alcuni intervalli. Prima di iniziare ricordiamo che se in un intervallo un estremo è incluso, è circondato da una parentesi quadra, mentre la parentesi è tonda se l'estremo non fa parte dell'intervallo. Il primo intervallo è chiuso, dato che entrambi gli estremi sono inclusi, e inoltre limitato. Per definizione, un intervallo è limitato se si possono trovare due numeri tra i quali sono racchiusi tutti i suoi elementi. Non è limitato, almeno superiormente, il secondo intervallo, che ha come estremo destro più infinito. È un intervallo aperto perché 6 non è un estremo incluso. Il terzo intervallo è chiuso a sinistra e aperto a destra, ed è limitato. L'ultimo intervallo è chiuso a destra e inferiormente illimitato. Fra questi intervalli c'è un intorno, è il secondo, ed è un intorno di più infinito. Nel prossimo esercizio dovremo essere noi a scrivere gli elementi di un insieme, se possibile, sotto forma di intervallo. Nello svolgere esercizi come questo dobbiamo prestare attenzione all'insieme numerico a cui appartengono gli elementi dell'insieme. L'insieme A è formato dai numeri naturali che risolvono questa equazione. Impostiamo la risoluzione di questa equazione di secondo grado. Il suo delta è positivo ed è uguale a 25. L'equazione ha due soluzioni distinte. Per trovarle, applichiamo la nota formula risolutiva e sostituiamo i valori numerici, ricordando che a è il coefficiente del termine di secondo grado, b il coefficiente del termine di primo grado e c il termine noto. Prendendo questa espressione prima col segno più e poi col segno meno, otteniamo due soluzioni. 3 e un mezzo. Soltanto una di queste fa parte dell'insieme A, ed è 3. Un mezzo, infatti, non è un numero naturale. L'insieme A può essere rappresentato in questo modo e non può essere rappresentato con la notazione di intervallo, dato che è un insieme finito, formato da un solo elemento. Passiamo all'insieme B, costituito dai numeri reali che rendono vera questa disequazione logaritmica. Risolviamola. Ricordiamo che il logaritmo è definito quando il suo argomento è maggiore di 0, in questo caso per tutte le x maggiori di meno 3. Per risolvere la disequazione possiamo scrivere il secondo membro come logaritmo naturale di E e poi passare alla disequazione tra gli argomenti dei due logaritmi. Spostiamo il 3 a secondo membro per trovare la soluzione. Attenzione, perché dobbiamo tenere conto delle condizioni di esistenza e quindi dobbiamo prendere tutti i numeri minori di E meno 3 limitandoci a quelli maggiori di meno 3. B, che corrisponde all'insieme soluzione della disequazione, è dato dall'intervallo aperto e limitato, meno 3 e meno 3. Nel terzo e nel quarto esercizio parleremo di estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo, in due modi diversi. In questo esercizio li cercheremo in maniera rigorosa, secondo la loro definizione. Il primo passo per studiare gli estremi di un insieme è quello di scrivere alcuni elementi per farsi un'idea dell'andamento generale. Ci interessa capire se gli elementi seguono un andamento regolare, per esempio crescono o decrescono costantemente, o se invece il loro andamento è irregolare. Ci basta scrivere i valori corrispondenti a n uguale 1, n uguale 2 ed n uguale 3. Ci accorgiamo subito che gli elementi di questo insieme sono sempre più piccoli al crescere di n e si avvicinano via via a 3. 7 mezzi è uguale a 3,5 e 10 terzi è uguale a 3,3 periodico. Dopo qualche semplice calcolo possiamo riscrivere il termine generale in questo modo, e questo conferma i nostri sospetti. Il termine 1 su n diventa sempre più piccolo al crescere di n e quindi gli elementi dell'insieme si avvicinano sempre di più a 3. Possiamo formulare una congettura e affermare che questo insieme è dotato di estremo superiore, anche massimo, e di estremo inferiore. Non ha, invece, il minimo. Iniziamo col dimostrare che 4 è il massimo dell'insieme. Richiamiamo brevemente la definizione di massimo. Abbiamo visto prima che 4 appartiene all'insieme, è il valore che si ottiene per n uguale 1. Ci resta da dimostrare che 4 è maggiore o uguale ad ogni elemento di A. Dobbiamo impostare questa disequazione e controllare che sia verificata per ogni n diverso da 0. Poiché sappiamo che n è positivo e diverso da 0, possiamo moltiplicare entrambi i membri della disequazione per n, mantenendo invariato il verso. Trasportiamo 4n a primo membro e 1 a secondo cambiandoli di segno e poi svolgiamo il calcolo a primo membro. Ora possiamo cambiare i segni in entrambi i membri. Questo equivale a moltiplicare entrambi i membri per meno 1 e cambiare di conseguenza il verso della disuguaglianza. Questa è sempre verificata, perché n è maggiore o uguale a 1 per ogni n per il quale sono definiti gli elementi dell'insieme. Con questo passaggio si chiude la dimostrazione e possiamo affermare che 4 è il massimo di questo insieme. Dimostriamo adesso che 3 è estremo inferiore dell'insieme. Richiamiamo la definizione di estremo inferiore. La prima cosa che dobbiamo fare è mostrare che 3 è un minorante dell'insieme e i passaggi sono simili a quelli visti prima per provare che 4 era un maggiorante. In questo caso la disequazione è questa. Come prima, moltiplichiamo entrambi i membri per n, positivo e diverso da 0. Ora cancelliamo i termini 3n, uguali e in membri diversi. Ci resta una disuguaglianza sempre vera, dato che 1 è sempre maggiore di 0. Il secondo passaggio è mostrare che 3 è il più piccolo dei minoranti e per farlo dobbiamo far vedere che preso un qualunque epsilon, piccolo a piacere, possiamo trovare un elemento A dell'insieme più piccolo di 3 più epsilon. Impostiamo la disequazione, sostituendo ad A la sua espressione dipendente da n. Portiamo tutto a primo membro e poi riduciamo ad un'unica frazione. Possiamo cancellare i termini 3n, opposti tra loro. Adesso notiamo che n è sempre maggiore di 0 e quindi il segno di questa frazione dipende soltanto dal segno del numeratore. A noi interessa ricavare n, allora isoliamo meno n epsilon a primo membro e dividiamo tutto per meno epsilon. Dobbiamo cambiare il verso della disequazione dato che stiamo dividendo per una quantità negativa. Quindi la disequazione è verificata per ogni n maggiore di 1 fratto epsilon. Quando è coinvolto epsilon sembra tutto piuttosto oscuro. Chiariamo il significato di questi passaggi con un esempio numerico. Supponiamo di scegliere epsilon uguale 0,0001. Dato che n deve essere maggiore di 1 su epsilon, n dovrà essere maggiore di 10.000. Scegliamo il primo n maggiore di 10.000, 10.001, e calcoliamo l'a corrispondente. Otteniamo questo valore, che è, in effetti, minore di 3 più epsilon. Quindi, qualunque epsilon si scelga, si riesce a determinare un valore a che è più piccolo di 3 più epsilon. E questo ci assicura che 3 è il massimo dei minoranti. Se appartiene all'insieme è anche minimo, quindi dobbiamo controllare se ne fa parte. Se così è, lo si deve poter ottenere per un qualche valore di n, e allora ci basta porre il generico elemento A uguale a 3 e provare a ricavare n. Moltiplichiamo entrambi i membri per n e poi eliminiamo i termini 3n, seguendo i principi di equivalenza delle equazioni. Otteniamo un'uguaglianza falsa, e ciò dimostra che 3 non appartiene all'insieme, e allora non è il suo minimo, ma il suo estremo inferiore. Abbiamo visto come ricavare rigorosamente massimo, minimo, estremo inferiore ed estremo superiore. Vediamo nel prossimo esercizio come ricavarli in maniera intuitiva, analizzando le caratteristiche dell'insieme in esame. È un'operazione piuttosto semplice, perché si tratta di scrivere alcuni elementi dell'insieme e individuare l'andamento generale di questi. Partiamo dall'insieme A e scriviamo i suoi primi elementi, corrispondenti ai primi valori di n, n uguale 0, n uguale 1 ed n uguale 2. Un rapido sguardo ci permette di notare che questi decrescono in valore assoluto al crescere di n, perché il denominatore cresce. Inoltre, i segni si alternano, e questo è dovuto al numeratore, che, a seconda che n sia pari o dispari, ha risultato 1 e meno 1 rispettivamente. Possiamo affermare con sicurezza che 1 è estremo superiore e massimo dell'insieme, e meno 1 terzo è estremo inferiore e minimo. Infatti, 1 appartiene all'insieme ed è il valore più grande, e meno 1 terzo appartiene all'insieme ed è il valore più piccolo. Seguiamo lo stesso procedimento per analizzare l'insieme B, e scriviamo alcuni suoi elementi, corrispondenti ai primi valori di n. In questo caso è evidente che i valori sono via via crescenti, e tutti maggiori o uguali a 0. Ricordiamo, a tal proposito, che il logaritmo naturale, con base il numero di nepero e, è negativo per valori strettamente compresi tra 0 e 1. Questa prima osservazione ci permette di affermare con sicurezza che 0 è estremo inferiore e minimo dell'insieme, dato che vi appartiene. Riguardo all'estremo superiore e al massimo, il fatto che i valori siano via via crescenti ci pone il dubbio se questo insieme sia effettivamente limitato. Per rispondere alla domanda possiamo usare un trucchetto e ricordare cosa succede alla funzione logaritmo naturale di x quando crescono i valori della variabile. Questa, seppur lentamente, cresce e va verso più infinito. Così faranno anche gli elementi di questo insieme, che è illimitato e non a massimo, ed ha estremo superiore uguale a più infinito. Nel prossimo esercizio ci viene chiesto di indicare l'insieme dei punti di accumulazione di un dato insieme. Ricordiamo che x con 0 è punto di accumulazione di un insieme se in ogni suo intorno si trovano infiniti punti dell'insieme. Possiamo tradurre questa definizione in alcune indicazioni utili per individuare facilmente i punti di accumulazione di un insieme, in particolar modo se questo è un intervallo. Tutti i suoi punti interni sono di accumulazione. I punti isolati, come 4 nell'insieme A, non lo sono. Lo sono invece sup e inf dell'insieme. Seguendo queste indicazioni è facile affermare che l'intervallo chiuso 0,2 è l'insieme dei punti di accumulazione di A. Riguardo a B, i suoi punti di accumulazione sono tutti i valori compresi nell'intervallo chiuso meno 2,2, nell'intervallo chiuso a sinistra 5 più infinito, e poi più infinito, sup di questo insieme. Chi volesse approfondire gli argomenti trattati in questi esercizi può guardare questo mio video in cui parlo di insiemi numerici e in particolare dell'insieme R. Buon proseguimento e buono studio!